Ondina Valla è la prima atleta italiana ad aver vinto la medaglia d'oro agli Olimpiadi di Berlino del 1936 per gli 80 metri ad ostacoli. In Italia ruppe finalmente lo schema della popolarità legata al modello maschile e nell'anno successivo le venne riconosciuta la medaglia al valore sportivo ed un assegno di 5.000 lire oltre alla possibilità di avere una foto con la regina Elena. La rassegna fotografica di Adriana Balzanini, professoressa di educazione fisica di Verbania ed esponente del Panatron, area 3 di Piemonte e Valle d'Aosta, racconta di Ondina Valle e di tante altre donne che hanno fatto grande lo sport. Una mostra che dopo un lunghissimo tour partito nel 2014 dallo Stadio Olimpico di Roma, in questi giorni è allestita presso la sala del Castello Normanno di Ariano Erpino. Il distretto locale del Panatron, guidato da Giussi Cardinale, è uno dei sei della Campania a presentare la rassegna sull'emancipazione femminile vista attraverso i giochi olimpici. Sicuramente è un messaggio molto attuale perché questa mostra cosa vuole fare? Ripercorre un po' gli ultimi cento anni della storia delle donne nelle Olimpiadi. Nel corso di questi cento anni e più sono cambiate tantissime cose e questa mostra rappresenta un po' l'evoluzione sotto il profilo non soltanto sportivo ma anche sociale, dove è l'evoluzione che sta seguendo la nostra società nella maggiore affermazione della donna, nel darne una maggiore voce in capitolo e soprattutto la donna cerca di avere più voce in capitolo. Quindi non aspetta soltanto che le venga data ma combatte per averla. Durante l'inaugurazione è stata la professoressa Pina Perna ad entrare nel merito del ruolo delle donne nel secolo breve, fra battaglie e conquiste. Presente, oltre all'amministrazione comunale del Tricolle, con l'assessore Manganiello e affidato, alla diocesi Areano-Lacedonia, Condor-Raffaele Iorizzo, il governatore dell'area 11 Campania, Panatron, distretto Italia, Pietro Sanquineti. Le donne anche nello sport hanno dato tanto alla nostra Italia. I ragazzi e le ragazze, vedendo questa mostra che illustra tutti i successi che le donne hanno avuto nelle Olimpiadi, devono spingersi ad evitare purtroppo i vizi moderni, internet e via di seguito, e darsi allo sport. Perché lo sport, oltre a essere un insegnamento fisico di come ci si comporta, è un insegnamento mentale. Tant'è vero, se è stata fatta una indagine, tutti coloro che hanno superato gli 80 anni di vita hanno fatto in gioventù sport e hanno continuato a fare sport per tutta la vita.